no qualcuno di voi ha una barzelletta, la vengo a raccontare perché io... chi è? chi è Antonio? Arturo Arturo, la barzelletta no, niente barzelletta Antonio Covello, la barzelletta, no lo conosco, le sale barzelletta sono pronti? prontissimi, perfetto godeteveli Grazie a tutti. 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 Don't you cry, 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 Don't you Grazie a tutti 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 Grazie a tutti